Avanti, rantola. Non pensi che possa esserci una spia sotto quel sombrero? C'è una seria possibilità. Lo pensavo anch'io. Faina! Che c'è, capo? Vieni qua. Avanti, provate tra voi. Lassù, sotto quel sombrero, ci dovrebbe essere una spia. Portalo giù. Intero. Qualcosa che non va, Sherif? Niente di importante. C'è un curioso lassù. Faina è andato a pregarlo di scendere. Che il cielo protegga il nostro amico. Farà bene a proteggere la spia. Chi sei? Chi ti ha mandato? Emiliano non tradisce, gringo. Emiliano dice tutto, gringo. Sono un uomo della banda di Mescal. Il maggiore ci ha ingaggiati e ha promesso a Mescal, il mio capo, vinti dei suoi stalloni se riusciamo a cacciare dalla valla queste cornacchie. E' inutile che cerchi di nascondere le tue intenzioni, vecchia Volpe. Ti conosco troppo bene, sei come un libro aperto per me. Ah, sì, eh? Vediamo se hai letto giusto. Tu vorresti sostituirti ai messicani per andare a prendere i venti stalloni. Dopodiché vorresti... Non è così? Hai letto giusto. Mi fa piacere che cominci a usare il cervello. Senti, Emiliano, ce lo faresti un favore in cambio della tua schifosa pellaccia? Claro che sì, ovvero. Bravo, Emiliano.